Voglio augurarti uno splendido 2013, ricco di gioia e di soddisfazioni. Ciao, io sono Mario Robecchi, sono un life coach, cioè mi occupo di miglioramento personale. Significa che aiuto le persone a capire che cosa vogliono fare nella vita e le spingo a riuscirci, do loro la motivazione. Ti spiego tutto questo nel mio sito, intitolato Come la vita quando ti sorride. Un sito dedicato al life coaching, con seminari, corsi online e consulti con me. Tutto questo ti procura delle soluzioni per vivere meglio. Prendendo spunto dalla mia attività, voglio farti gli auguri in un modo diverso, che sia utile per te. Voglio insegnarti 8 semplici passaggi per creare uno splendido 2013, ricco di soddisfazioni, che ti faccia sentire pienamente realizzato. Prima di iniziare, permettimi di farti alcune domande. Ossia, ti è già capitato di iniziare l'anno senza avere una meta precisa, abbandonando i buoni propositi dopo appena tre settimane e non sapendo esattamente cosa fare, e alla fine ti sei trovato a perdere la tua direzione, oltre a tempo e a soldi. Ti è capitato questo? Hai conosciuto la sensazione di euforia all'inizio dell'anno e poi di smarrimento, perché non sai esattamente cosa fare? Beh, io ti dico che tutto questo succede se non hai un piano preciso scritto. È molto importante, un piano preciso scritto. In questo video che stai guardando, voglio insegnarti 8 semplici passaggi per creare un ottimo 2013 ricco di soddisfazioni, così ti do delle indicazioni pratiche per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi che hai deciso di conquistare nel prossimo anno. Come ti dicevo, ci vuole un piano scritto, questo è fondamentale, non ci sono alternative. Lo so che non viene fatto da tutti, perché molti iniziano improvvisando, strada facendo incontrano degli ostacoli, questo è inevitabile, e di conseguenza perdono di vista le priorità a lungo termine e, alla fine, non realizzano i loro sogni. E' questo che blocca tante persone, il fatto di non avere un piano preciso, di non sapere come comportarsi nelle emergenze. Oggi le cose possono cambiare in meglio per te, per fortuna. Infatti, in questo video, ti insegno 8 passaggi essenziali per pianificare un 2013 di successo. Voglio darti delle indicazioni che ti consentono di uscire da quella incertezza che ti fa perdere entusiasmo, tempo e soldi. Per prima cosa, scegli un nome. Cioè, io ti invito a trovare un nome che sintetizza quello che vuoi ottenere nel 2013. Ad esempio, potresti scegliere un nome come Operazione Coppia Felice, Pieno Successo nel Lavoro, Promosso a Scuola, Mai Più Solo, Fine dei Debiti. Insomma, scegli tu un nome di fantasia, un simbolo, un animale totem, quello che preferisci. Deve essere qualcosa che per te rappresenta il senso di quanto vuoi realizzare. Così sai esattamente dove stai mettendo le tue energie. Quindi un nome è molto pratico per fissare nella tua mente la volontà di ottenere un obiettivo. Come seconda cosa, ti invito a guardare al futuro. Precisamente, ti chiedo, come vuoi essere tra cinque anni, grazie al tuo successo che realizzi nel 2013? Non guardare soltanto avanti di qualche settimana o di qualche mese. Pensa a che cosa succederà nel 2018, nel 2020, come conseguenza delle scelte che farai quest'anno. Dove vuoi essere tra cinque anni? Con chi vuoi essere tra cinque anni? E per fare cosa? Qual è il vostro obiettivo comune? Coltiva la visione, questo è molto importante. Ed è meglio ancora se tu scrivi questa visione, aggiungendo dettagli ed emozioni, così la visione diventa significativa per te, ti coinvolge, ti dà la motivazione. Come terza cosa, sintetizza in una frase quello che vuoi fare. Qual è il senso della meta che ti assegni per il 2013? Riassumilo in una frase. Usa al massimo dieci, quindici parole, che fanno capire in che cosa sarai eccellente e per quale motivo. Questa frase è estremamente utile perché, essendo breve, puoi scriverla su dei bigliettini che metti nel portafoglio, che incolli sullo specchio, sullo schermo del computer, che metti sul cruscotto dell'auto. È molto importante che tu ripeta a te stesso l'obiettivo, ecco perché ci vuole una frase che sintetizza il senso della tua meta per quest'anno. Il passaggio successivo è suddividere la tua meta in piccole unità. Quindi definisci con chiarezza le fasi che ti portano sino alla meta. Scrivi che cosa vuoi ottenere esattamente, in termini di quantità misurabili e di tempo per realizzarlo. Per ogni fase crea degli obiettivi specifici. Ogni fase è come un gradino che ti porta un pochettino più su, verso la meta. E come un gradino deve essere definito. Cioè devi avere un piano scritto che ti dice esattamente che cosa vuoi ottenere e quanto tempo ci vuole. Il passaggio seguente è analizzare le risorse. Elenca con sincerità i tuoi punti forti, da rafforzare ulteriormente, i punti su cui puoi contare. E ammetti anche le tue debolezze, le incertezze, che vanno considerate per valutare il tuo livello di abilità complessiva nel riconoscere le occasioni. Perché da una parte sei abile, dall'altra non sei così abile e quindi devi sapere qual è la situazione generale. Questo elenco ti serve per capire quale aiuto ti serve, da parte di chi e per fare cosa. Infatti il successo deriva da un gioco di squadra e tu devi organizzare la tua squadra in funzione della tua meta per il 2013. Quindi è molto importante che tu conosca le risorse a tua disposizione per sapere che cosa ti manca, quale aiuto ti serve e come puoi organizzare al meglio le tue risorse. Dopodiché ti invito a inventare una strategia. È una fase delicata questa, ma essenziale. Cioè ti serve una strategia, perché è indispensabile per sapere che cosa fare e quando farlo. La strategia ti dice come usare le risorse, per quanto tempo, sino a che punto, per ottenere quale risultato. Ti rendi conto che il tuo piano scritto deve indicare le tappe e le azioni che compi in ciascuna tappa, all'interno di una visione generale, armoniosa, che punta a realizzare la tua meta. È molto importante, tu devi vedere contemporaneamente la grande meta là in fondo davanti a te che ti aspetta e i piccoli passi che compi giorno per giorno. Ecco perché il piano scritto deve essere preciso, deve indicarti che cosa fare, all'interno di una visione generale armoniosa. Il passaggio successivo è definire gli investimenti, perché le idee e le buone intenzioni da sole non bastano. Ci vogliono anche i soldi per finanziare la tua meta. Magari tu stai pensando, beh, bella scoperta. No, attenzione, ascolta bene quello che ti ho detto. Non ho detto che i soldi devi possederli già per realizzare la tua meta. Ogni grande impresa nasce senza soldi. Qualsiasi multinazionale costa molto di più dei soldi che una persona possiede. E considera un semplice fatto, ognuno di noi nasce senza soldi. Quindi, non concentrarti sul fatto di possedere i soldi e di poter fare le cose che il tuo portafoglio ti permette. Non è quello l'approccio giusto per creare un ottimo anno di successo. La cosa importante è un'altra. è sapere che i soldi si trovano quando si ha un progetto che esprime valore. Esattamente. Tu devi esprimere valore, devi mettere il tuo valore in un progetto. E allora, definisci i costi, a che cosa servono quei costi, quanto guadagni, perché vuoi investire, in cambio di che cosa. Progettare l'uso dei soldi ti rende pratico e ti porta a ottenere i risultati a cui tieni. Questo è fondamentale. Devi presentare il tuo valore al mondo e, di conseguenza, appunto perché hai valore e sai ispirare, ti arrivano i soldi. E infine, l'ottavo passaggio. Accetta il fatto che devi perfezionare il tuo progetto strada facendo. Ora che hai una visione d'insieme della tua operazione successo 2013, se l'hai chiamata così o con il nome che tu hai scelto, ora che hai una visione d'insieme, considera ogni elemento che hai scritto nel tuo piano e sviluppano nei dettagli. Punta ad avere un quadro generale, chiaro, quanto basta per iniziare e inizia. Questo è fondamentale. Non stare lì fermo a pensare come potrebbe essere. Inizia. Incomincia a realizzare il tuo progetto. Man mano che procedi, perfezioni il tuo piano. È normale. È normale che il progetto sia incompleto. È normale che ci siano degli imprevisti, ma appunto perché hai un progetto, tu ricordi la tua meta generale e sai come aggiustare il tiro. L'importante è rimanere serenamente concentrati e motivati sul risultato finale. Questo ti consente di realizzare un progetto a lungo termine, in una visione costruttiva che ti fa sentire pienamente realizzato. Applica questi otto semplici passaggi e realizzi un 2013 di successo, ricco di soddisfazioni e di prosperità. Analizza quello che ti ho insegnato, applicalo fino in fondo e arriverai alla tua meta. Bene, questi sono i miei auguri per te, affinché tu possa vivere un 2013 ricco di gioia e di soddisfazioni. Applica quello che ti ho insegnato, rafforza i tuoi punti forti e chiedi aiuto quando vuoi rendere più efficace la tua azione. Ti auguro tantissime belle cose e ti invito a visitarmi nel mio sito. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!